Salve, sono Zellinotti Luca e come primo argomento di questa raccolta di video sulla sicurezza iniziamo proprio dalla sicurezza sul lavoro. Il coronavirus, il Covid-19, è sicuramente l'aspetto più urgente da trattare in quanto tutti noi vogliamo sapere come proteggerci. In questo video andremo a vedere i dispositivi di protezione individuale, i DB adatti, la normativa e cosa portarvi dietro. Non potendo scendere nel dettaglio di ogni servizio, alcuni sono più a contatto con il pubblico ad esempio, altri meno, daremo dunque delle indicazioni generali. La distanza minima da rispettare è un metro, mentre quella di sicurezza sono almeno due o tre metri. Maggiore la distanza più sta dal sicuro. Il decreto legislativo 8108, quello della sicurezza sul lavoro, prevede di organizzare il lavoro e dei dispositivi di protezione collettivi, come barriere, innaste di segnalazione e solo quando tutto ciò non basta si può e si deve ricorrere ai dispositivi di protezione individuale come guanti e mascherine. Un esempio di riorganizzazione del lavoro per la sicurezza collettiva è trasferire tutte le attività all'aperto. Fortunatamente siamo favoriti della bella stagione. Ovviamente non possiamo rimanere tutto il giorno sotto al sole o sotto alla pioggia. Spostiamo all'aperto, ma con qualcosa sopra la testa, come una tettoia o un gazebo. Per far rispettare la distanza di sicurezza, meglio usare delle barriere fisiche, mobili, come dei nastri avvolgibili, del nastro da cantiere bianco-rosso o delle sedie sono l'ideale. Oggi tutti hanno imparato a rispettare il nastro russo per terra, quando lo vedono capiscono immediatamente da non passare oltre. Ma le barriere fisiche danno maggior sicurezza e sono molto più visibili. Se potete attrezzare le strutture così e crearvi uno spazio sicuro, non serve nulla. Non servono mascherine, guanti, li teniamo in tasca, pronti in tasca. Dove non potete garantire una barriera di protezione, un luogo sicuro dove lavorare e dovete avvicinarvi alle persone, quindi serve integrare la protezione collettiva con dispositivi di protezione individuali. Guanti, mascherine, occhiali diventano necessari. Sono tutti dispositivi di protezione di terza categoria e il datore di lavoro dovrà organizzare un'apposita formazione come previsto dal decreto legge seletivo 8108, quello della sicurezza sul lavoro. Migliore la formazione, meno rischi correte ed è anche avvantaggio del datore di lavoro perché vuol dire meno lavoratori in malattia. Tanti conoscono molto bene la loro mansione e non è facile rimpiazzarli durante questo periodo. Gli occhiali di protezione sono il primo dispositivo di protezione che andiamo a vedere. Ce ne sono di diversi protelli, ma più sono aderenti al viso e più proteggono. Ovviamente chi indossa gli occhiali da vista, la visiera è lo strumento di protezione consigliato aggiuntivo. Per le visiere e gli occhiali basta spruzzare con parecchina diluita a fine turno, sciacquarle ed asciugarle. Parliamo di guanti. I guanti andrebbero presi quelli che è scritto sulla scatola perché sui guanti, questi lattici, non c'è scritto mai nulla, che sono dispositivi di protezione di terza categoria. Per rischio biologico, sulla scatolina c'è scritto ed è c'è il simbolino. Fare delle forniture aziendali, abbatte i costi. Ogni lavoratore dovrebbe avere un astuccio in cui ci sono dei guanti pronti all'uso in modo da prenderli senza sporcare la divisa. Anche qui evitare di toccare anche con i guanti le cose in giro è sempre la soluzione migliore. Lavate spesso le mani con acqua e sapone. Del gel alcolico posizionato in punti strategici come i gabbiotti della sicurezza, le reception, le entrate è una buona cosa. Se dovete fare dei lavori che comporta a toccare cose che non potete pulire all'inizio turno con alcol e cloro come controllare documenti, portare materiale o altro i guanti servono. Se avete un gabbiotto o una pulsazione fissa o una scrivenia pulite sempre le sue superfici inizio turno prima e durante la giornata. Una volta messi i guanti non si tocca mai il telefono o la divisa o le altre cose. Se dovete fare una di queste cose levate i guanti, lavate le mani. Il telefono si può pulire semplicemente con della carta imbevuta di alcol. Fate attenzione a non rovinare i microfoni e le casse. Ricordate che se dovete girare i luoghi comuni maniglie e interruttori degli ascensori possono essere veicolo di contagio. Appena possibile lavarsi subito le mani cambiarsi i guanti. Costano una sciocchezza, non abbiate paura di usarli. L'uso di guanti può essere regolato dal datore del lavoro che potrebbe avere accordi specifici con il committente. Seguite scrupolosamente le indicazioni andranno sicuramente bene. Le mascherine vanno usate se state vicino a persone, luoghi chiusi dove ci sono altre persone. Andrebbero usate quelle con scritto FFP2. Durano un solo turno e non si possono lavare. È importante che aderiscono completamente al viso senza lasciare spazi sul naso o intorno alle guance. Altrimenti da questi spazi, in particolare intorno al naso, entra aria non filtrata. È importante che quando ve le danno non si toccano mai dal lato interno. Se le levate per qualche motivo, non mettetele mai in tasca. Si poggiano su un foglio di carta pulito, come ad esempio un foglio di stampante o un foglio di carta di quelle da cucina monuso. Vanno poggiate su un luogo lontano da tutti e siamo attenti che non cadono a terra neanche se ci sono folate di vento. Quando riprendete la mascherina, buttate immediatamente la carta sulla quale l'avete poggiata in modo tale che nessuno la vada a toccare e lavatevi nuovamente le mani una volta indossata. Con le mascherine si fa un po' più fatica a respirare e tra un po', quando arriverà il caldo, saranno scomode. Cercate di anticipare le soluzioni in modo da stare tranquilli quest'estate. Gazebi, ombrelloni, ventilatori, vestiario più leggero rispetto a quello usate di solito aiuteranno molto. Le uniforme e il pantalone lungo sono sicuramente più carine, ma la sicurezza avviene prima di tutto. Meno immagine, più sostanza. Qui serve flessibilità di datori di lavoro e dei committenti che devono comprendere le necessità e il periodo. Nella maggior parte dei servizi non dovrebbe essere necessario indossare la tutina di quelle bianche sopra la divisa. La divisa però va levata sul luogo di lavoro. Andrebbe lasciata in un armadietto apposito con doppio scomparto. Due zone per lo sporco e per il pulito. E si deve tornare a casa, quindi, indossando un abito pulito. Questo non è possibile in tutti i servizi. Se dovete portare via da lavoro il vestiario, dovete portarvi due borse. Una per la divisa e una per il cambio per tornare a casa. Basta levare gli strati esterni della divisa, tutti quanti quelli a vista. Tenete le scarpe in una busta separata. Se sono lavabili, pulitele prima di metterle in una busta con dell'alcol. Attenzione con il cloro che macchia. Normalmente gli abiti da lavoro li ritira una ditta specializzata che ha preso accordi con i datori di lavoro. Tanti di noi le lavavano a casa, ma prima il rischio non c'era. Se non ci dovesse essere organizzato questo servizio e le dovete portare a casa per lavarle, lasciatele nelle borse. Non mischiate mai gli abiti sporchi con quelli puliti della famiglia. Mettete immediatamente il lavatrice senza che toccano l'esterno della lavatrice. Così, se avete bambini che girano in casa, potete stare tranquilli che non avete sporcato nulla. Come kit da portarvi sempre dietro, riassumendo, abbiamo una mascherina, un astuccio con dei guanti, degli occhiali, del nastro per segnalare le distanze, uno spruzzino e del gel disinfettante e due borse. Uno dei nemici della sicurezza è il classico. Abbiamo sempre fatto così. Come abbiamo appreso, bastano pochi dettagli per lavorare in sicurezza e in tranquillità. Piccoli dettagli che cambiano poco il nostro modo di lavorare, ma che fanno la differenza. Basta un po' di organizzazione, pensare all'esiluzione e trovare quella più adatta alla nostra mansione. Il feedback di lavoratori è fondamentale. Serve ascoltare tanto le necessità. Non avere paura a chiedere e sperimentare ogni idea. Ricordate le due cose più importanti per la sicurezza. Lavarsi spesso le mani, il sapone protegge più dei guanti e la distanza di sicurezza protegge più della mascherina. Racconta sotto nei commenti la tua storia, di come te e i tuoi colleghi vi siete attrezzati in modo da condividere le tue soluzioni con i colleghi di tutta Italia. insieme lavorare con maggior sicurezza.